Volevo portare alla vostra conoscenza anche una verissima iniziativa in Germania di un'associazione che è nata e se è nata un'associazione dobbiamo capire che veramente il fenomeno è di grande portata sto parlando dei fuoriusciti dei testimoni di Geova, sempre più persone grazie al web prendono consapevolezza questo ha due tipi di reazioni nel testimoni di Geova, fa capire nella sua psichia che allora vedi sono davvero nel giusto quindi è qui che devo rimanere, tutti gli altri stanno prendendo la strada larga mentre io rimango qui sono nella strada stretta, sei proprio sicuro che tutte queste persone abbiano dei motivi assolutamente futili per uscire dall'organizzazione o c'è qualcos'altro sotto, lo scoprirai solo leggendo, lo scoprirai solo leggendo, solo informandoti senza paura se sei nella verità tu non devi temere nulla, viceversa ti devi insospettire come mai sempre più nella letteratura l'attore di guardia inciti a diffidare della letteratura apostata, insiste così tanto perché sa che ha motivo di temerla questa letteratura allora questa associazione dice Varum, nome testa, perché è nata in Germania e sarebbe bello averne anche in Italia un'associazione di questo tipo, Dio solo sa il bisogno che c'è durante i discorsi è apparto chiaro che c'è un grande bisogno di un'ampia varietà di aiuti per coloro che abbandonano i testimoni di Geova in particolare molti vorrebbero poter trattare con i testimoni di Geova in modo obiettivo senza alcuna agitazione o denigrazione, qui sto traducendo dal tedesco con Google Translator sono persone sincere e vogliono fare del bene agli altri, dice la maggior parte dei testimoni di Geova sono persone sincere e vogliono fare del bene agli altri anche se alcuni di coloro che hanno abbandonato sono delusi e le ferite, devono essere guarite non aiutano affatto gli altri che parlano negativamente dei loro ex compagni di fede quindi vedete come già capite l'impostazione molto oggettiva riconosce i lati positivi che ci possono essere in questa organizzazione e dice che non è che si può, non è bello vivere in questo astio, in questo rancore infatti io anche dei miei, diciamo così, colleghi fra virgolette persone che parlano sui testimoni di Geova condanno in maniera totale chi parla con astio, con rancore, insultando io a volte posso fare qualche parodia ma mi viene perdonata, spero, insomma, no? è un po' una piccola rivincita che prendo sulla pesante satira che l'attore di guardia ha fatto sempre nei confronti della Chiesa Cattolica prendete vignette satiriche di satira pesante di The Golden Age c'è roba da mettersi nei mai nei capelli, altro che parodia molti ancora, testimoni di Geova, evitano di rompere con l'organizzazione anche se ci sono seri dubbi, pressioni, insoddisfazione e la sensazione che qualcosa qui non va che non c'è alternativa alla verità per molti testimoni di Geova ed è così, il pensiero che scoraggia molti ad uscire è il dire ma perché? se allora la verità qui non è ma ando vado? eh, perché? certamente l'ultimissimo posto a cui si pensa ovviamente è proprio la Chiesa Cattolica il bambino è la grande, figuratevi per chi è stato inculcato questo pensiero quindi e la visione negativa di tutto ciò che è là fuori, no? è stata ripetuta e inghiottita per anni come una mantra chiaramente qui la traduzione italiana è approssimativa ma intuisco quello che vuole dire nel tedesco l'esperienza ha dimostrato che distaccarsi dai testimoni e scendere dell'auto da soli, no? e senza aiuto è un processo molto lungo e difficile più e più volte le persone minimizzano i loro dubbi appunto come il mantra in qualche modo non è tutto giusto qui ma comunque sono vicino alla verità una delle cose che più spesso mi viene detto a me quando si riconosce che ci sono delle cose che non vanno vabbè tanto Geva comincerà dalla sua casa a fare pulizia queste sono frasi che si giustificano, no? per il fatto di manco qui perché comunque nessuno è così vicino alla verità biblica te lo stai dicendo continuamente tu testimone che stai facendo ricerche se sei su questo canale perché stai facendo delle ricerche che il tuo anziano non approverebbe e quindi te lo stai continuando a dire sì però comunque siamo quelli più vicini, no? ci vogliono molti anni per ammettere che non tutto ciò che luccica è verità di te inoltre c'è il desiderio di molti abbandonati di voler di voler continuare a credere in Dio e vedere la Bibbia come parola di Dio deve esserci qualcosa non posso diventare atro no detto di dire qualcosa si ribella probabilmente forse non lo hai mai conosciuto il Dio di Gesù perché è Gesù che è venuto a svelare il vero volto del Padre cioè il nome non posso separarmi da Dio solo perché i testimoni hanno torto sono i pensieri più frequenti dice questa associazione anche se molti ex testimoni di Gioia voltano completamente le spalle della fede è vero io la definisco una delle più grandi fabbriche di atei tra l'altro nel loro diritto molti cercano una sorta di riorientamento delusi da questa organizzazione religiosa spesso perdono la fiducia nelle comunità religiose inoltre ci sono tante domande su argomenti biblici sulla necessità di poter parlare con qualcuno di questi argomenti senza doversi impegnare di nuovo immediatamente perché se da uno studio sistematico inquadrato passo ad un altro studio sistematico inquadrato è chiaro che mi viene l'articaria no? dice come? sto uscendo da una cosa a un momento di un'altra Betesta è il nome di questa associazione e vorrei aiutare le persone in queste situazioni vogliamo aiutare a scappare uscire e stare insieme fornire un orientamento un drop out insomma a coloro che vogliono diventarlo il nome Betesta arriva dalla Bibbia chiaramente si riferisce alla piscina che è stata tra l'altro ritrovata come il ritrovo tecnologico voglio offrire il tipo di aiuto che gli ex testimoni di Giovanni hanno desiderato con discussioni gruppi in casa eventi e materiale informativo è un'offerta soprattutto sottolineo questo a confessionale non me ne sto parlando come un'associazione cattolica non è il Gris non c'è niente è un'offerta a confessionale non appartiene a nessuna comunità religiosa mi sento però di appoggiarla perché comunque dal punto di vista psicologico c'è un grado di bisogno questo punto di vista per chi è in Germania però chiaramente bene io vi metto il link in descrizione se qualcuno ha parenti in Germania che vuole approfittare dell'aiuto fattivo concreto che questa associazione offre potete consultare appunto il sito che metto in descrizione e io vi benedica grazie a tutti grazie a tutti